L'Aurum ospiterà dal 21 al 24 marzo il Pescara Photo Festival, prima edizione assessore di questa manifestazione dedicata alle foto, ai fotografi, all'immagine. Come è nata l'idea di questa iniziativa? Quest'idea condivisa con le sei associazioni che partecipano a questa prima edizione del Pescara Photo Festival, un festival che riesce a coinvolgere tutti, oltre ad aver realizzato, a continuare a svolgere la loro attività sul territorio, per la prima volta si uniscono tutte queste associazioni. Il fatto che queste associazioni abbiano raccolto con entusiasmo, e lo sottolineo, l'invito dell'amministrazione a realizzare questo primo evento cittadino, che poi speriamo nelle prossime occasioni ed edizioni possa diventare un evento nazionale e perché no anche internazionale, siamo lieti che si possa collaborare per dare maggiore ricchezza a questo settore. Presidente, cosa vedremo in questi tre giorni all'Aurum di Pescara? Avremo modo di vedere sei mostre fotografiche realizzate all'interno della Sala Flaiano, ognuna dedicata a un genere fotografico scelto dalla singola associazione e la possibilità anche di assistere a due seminari che si svolgeranno il giorno del venerdì pomeriggio alle 18 sul tema dell'intelligenza artificiale nella fotografia, tema molto dibattuto e molto attuale, e nel secondo giorno, il sabato, sempre alle 18, un altro seminario dedicato alle divine proporzioni nelle arti visive. Interverranno due esperti delle entrambe le materie, quindi sarà modo sia per i giovani, le scolaresche, che per noi più adulti e magari appassionati di fotografia, approfondire queste tematiche interessanti.